Ciao a tutti ragazzi, qui c'è veramente da diventare matti, ve lo dico subito. Mettetevi un attimo nei miei panni. Sapete da mesi che personalmente stravedo per l'ampiezza di calcio di Sandro Tonali, per la maturità, i margini di prospettiva che esonda solo a guardarlo in volto, per il portamento, per come ha saputo rimanere equilibrato anche in una stagione difficile come quella del Brescia, per il tifo rossonero che ha, visto che ha rotto la tazzina in cui fa colazione rigorosamente rossonera, però continua a farla in quella tazzina per non cambiarla proprio perché è rossonera. In tutto questo ho paura di rimanerci male, ho paura di soffrirci, non voglio illudermi, mi faccio l'idea che sia andato ormai da un'altra parte per non rimanerci male e poi leggo qualche notizia di alcuni colleghi che parlano del Milan forte su Tonali, ma vedo i commenti dei tifosi. Allora, seguitemi. L'anno scorso Ben Nasser non andava bene perché aveva giocato in una squadra retrocessa. Leggere i commenti sotto il tweet di Antonio Vitiello, collega di Milan News e del Corriere dello Sport, che parla di Tonali, c'è uno che dice no, Tonali non bisogna sostituire Ben Nasser con Tonali perché Tonali ha giocato in una squadra retrocessa. C'è veramente da impazzire. C'è veramente da impazzire. Cioè, non basta essere stati smentiti da Ben Nasser che anche se ha giocato in una squadra retrocessa, chi se ne frega, ha fatto un'ottima stagione in totale crescendo a grandi margini e prospettive ed è stato ochchieggiato anche da importanti club europei. Ma adesso, Ben Nasser, anche se ha giocato a squadra retrocessa diventa la certezza e guai a noi se lo sostituiamo con Tonali. Non c'è nessuna sostituzione. Io credo che la trattativa per Tonali sia difficilissima e credo ormai che le possibilità di vederlo da noi sono ridotte al lumicino. Però mi piace, mi piace l'idea di un Milan sensibile. Un Milan che ha visto le qualità di Tonali. Non soltanto tecniche e di metodo, ma anche umane. Pur essendo giovanissimo, Sandro Tonali è esattamente un centrocampista centrale. Adesso non voglio dare troppa goduria ai nostri avversari, ai tifosi dell'Inter, che mi rifaceranno queste parole quando lo prenderanno. Però, parlando tecnicamente, non da tifosi, è esattamente il centrocampista centrale che ragiona. Perché il centrocampista centrale è bene che sia veloce, è bene che sia frenetico in alcuni casi, ma in molti casi deve leggere, deve rallentare, deve capire, deve distribuire, deve fare tante cose. E tutte queste cose io personalmente, in prospettiva chiaramente, non tutte adesso, ma le vedo in Sandro Tonali. Per cui sto facendo un tifo silenzioso pazzesco. Continuo a ripetermi, non viene, non viene, non viene, vedrai che va dagli altri, vedrai che va dagli altri, vedrai che va dagli altri, e poi leggo che se lo prendiamo, prendiamo un bidone, ragazzi. Veramente, veramente. Non vi leggo più. Non vi leggo più. Non vi leggo più e non voglio più sapere niente. Sto nel mio, non sto dicendo a voi, sto commentando alcuni commenti su Twitter, che, vi ricordate ben a serra l'anno scorso, ma come si veste, ma è retrocesso, ma è piccolo. Io non so come si parla di calcio in questo paese, francamente. O quantomeno lo so, e pur avendo imparato a volare basso, mi sorprendo ogni volta di più, e non in positivo. Dette queste cose fra noi, vedo, vedo onestamente, ragazzi, un Milan molto attivo. Adesso non so che cosa sta succedendo di preciso con Brahim Diaz, però, insomma, Baccaiocò, Brahim Diaz, eventualmente, tonali almeno come trattativa, perché sono convinto che alla fine non verrà, e altre occasioni, se ci saranno, di qui nel corso del mercato. Mi sembra che il Milan in questo momento sia molto attivo, mi sembra che il Milan sia presente sui punti in cui deve essere presente sul mercato, mi sembra che stiamo facendo un mercato, poi ne parleremo meglio quando, se ed eventualmente ci saranno le ufficializzazioni, però mi sembra che stia facendo un mercato in linea con gli ultimi due, che è esattamente quello che dobbiamo fare, perché se noi facciamo un mercato in linea con gli ultimi due, rafforziamo la squadra, miglioriamo, e possiamo puntare davvero ad uno dei primi quattro posti per il prossimo campionato. Adesso noi dobbiamo semplicemente, avete visto la prima lista delle amichevoli, il 2 giocheremo con il Novara, una sgambata a Milanello, la prima, un po' come l'anno scorso, quando poi partimmo, poi il 5 a San Siro, Minammonza, il 9 ci sarà la partita con il Vicenza, sempre a Milanello, poi dovrebbe esserci un altro test, ma non è ancora stato ufficializzato, prima della gara di Europa League, che ci vedrà in campo il 17 di settembre. Adesso dobbiamo pensare a questo, noi dobbiamo essere tranquilli che la società, quello che è possibile fare sul mercato, lo può fare, e sta cercando di farlo. Se interrogata la società risponde ad ogni nome, Aurier no, Calabria resta. Ibra, era stato detto, si sta facendo di tutto, e si sta facendo di tutto. Avete visto il profilo Instagram di Ibra, e quindi non c'è bisogno di fare ulteriori commenti, poi domani è il 29 di agosto, e bisogna stare calmi, perché vedo alcuni colleghi del Milan, alcuni colleghi giornalisti che mi agitano, mi agitano molto, e siccome basta poco per agitarmi, poi chi mi agita si diverte per vedere che mi agito, però intanto io mi sono agitato, e faccio danni quando mi agito, quindi bisogna stare calmi, bisogna stare calmi. Il Milan è una società in questo momento che vaglia 300.000 cose al giorno, che è presente, che è attenta, che ha le corde secondo me di mercato giuste dal punto di vista tecnico-sportivo per vedere e valutare i giocatori, e quindi dobbiamo essere fiduciosi sul mercato, e dobbiamo essere concentrati sul far bene le prime amichevoli, i primi testo, e a presentarci bene il 17 di settembre, è importante per noi andare in Europa League, anche dal punto di vista economico-strategico complessivo, e quindi poi tutto quello che verrà, il 2 settembre ci saranno i calendari, dobbiamo essere bravi a immaginare che io sogno un momento in cui la tifoseria rossonera non si dividerà più e non discuterà più dei propri problemi, ma inizierà un po' a baruffare con gli avversari, perché sai, quando tu non sei a posto, quando tu vieni da anni difficili, sei un po' deboluccio, devi pensare prima a te stesso, non è che ti metti a far polemiche sportive con gli avversari, ecco io sogno che tra questo mercato e la preparazione di Stefano Pioli e del suo staff, noi si cominci l'anno prossimo, ecco, a tornare a essere a posto noi, a misurarci anche un po' con gli altri, perché è chiaro che se vuoi lottare per la Champions League, poi ci sono anche gli avversari, ci sono le polemiche, ci sono gli episodi, ci sono tante cose, e io mi auguro ecco di uscire dal mood in cui dobbiamo fare gli esami di autocoscienza per capire dove abbiamo sbagliato, di chi è la colpa, eccetera, eccetera, e tornare a competere, tornare a vivere il calcio, insomma, perché va bene guardare dentro noi stessi, però l'abbiamo fatto abbastanza negli ultimi anni, quindi adesso dobbiamo iniziare a guardare oltre noi stessi, che è la cosa che dobbiamo augurarci, che è la cosa alla quale dobbiamo tendere. Naturalmente la logica con cui si cerca di fare poi le trattative, le inizi, le trattative oggi nel calcio sono lunghe, i contratti sono lunghi, i capitoli di ogni contratto sono lunghi per ogni giocatore, quindi prima di arrivare all'ufficialità, che sia posto ogni virgola, passa del tempo, quindi non è lentezza del Milan, è il calcio di oggi, quindi mi sembra che sia che si chiudano, sia che non si chiudano le trattative, il Milan, ripeto, stia pensando calcio con totale sintonia all'interno della società, e con le corde giuste, con le intuizioni giuste, poi è sempre il campo doverci dire la verità, però tutti i nomi che si stanno facendo attorno al Milan, poi non so se saranno quelli, Baccaio Cobra, Rahim Diaz, Tonali e quant'altri, oltre evidentemente a Zlatan, che non va mai dimenticato, perché insomma, le prime donne non bisogna mai dimenticarle, ecco, tutti i nomi fino a questo momento sono quelli giusti, qualcuno dirà non c'è il top, non c'è Chiesa, poi tanto anche se andiamo su Chiesa, c'è sempre qualcuno che dice che Chiesa si infortuna sempre, quindi mi sembra ecco che stiano, il Milan sia su giocatori un po' come l'anno scorso, quando si diceva, eh Matteo Hernandez non serve, perché abbiamo già il terzino, eh ma Benassere retrocesso, eh ma Raffaele Aue come Niang, che è la sciocchezza delle sciocchezze, eccetera eccetera eccetera, ecco mi sembra che stiamo facendo quel mercato lì, quel mercato che magari alla fine della sessione non farà fare salti di gioia agli atollà di Twitter, però poi sul campo potrebbe potrebbe darci molto, ecco questo è quello che mi auguro, perché naturalmente poi fra tifosi si parla, si discute, ognuno dice la sua e magari ci si divide un po', però poi è il campo che dice l'ultima parola e poi sul campo bisogna trovare evidentemente una sintesi come è accaduto per gli ultimi due mercati, per cui cerchiamo di stare calmi, di non illuderci su nulla e di essere fiduciosi, sia sul lavoro che stiamo facendo sul mercato, sia sul lavoro invece che ci attende sul campo, perché dobbiamo far bene le prime amichevoli, perché dobbiamo essere pronti per il 17, adesso il 17 di settembre che si sta giorno per giorno avvicinando, deve diventare anche un nostro orizzonte importante, anche a livello di concentrazione da parte vostra, da parte i tifosi del Mian, i tifosi sono una parte fondamentale e imprescindibile del calcio, ciao a tutti.